ragazzi questo qui è il villaggio masai queste case sono fatte a delle donne che sono fatte con il fango e la cacca di mucca i bambini sono paura questo è un bambino masai un po paura perché non ha visto non è abituato a vedere gente vestito normale vestiti normale come sono vestito io è abituato vedere soltanto le persone con le macchie sul faccia come loro tribù e così questo è tutto il villaggio masai